Secondo lei i delitti sono collegati? Finora le vittime sono tutte quante donne dedite a particolari o aberranti attività sessuali. L'assassino è un bianco, gruppo sanguigno zero. Dovrebbe avere una quarantina d'anni. Aspetta qualcuno. Per lo meno centomila. Devo riferire qualcosa al sindaco? Sì, che è fra quelli. Questi pazzi omicidi uccidono per molte ragioni. Quasi sempre si ritengono dei giustizieri. Ecco perché il tuo assassino amanetta le sue vittime. Grazie a tutti.